Una buonasera da Massimiliano Sansa, benvenuti alla puntata dei Notturni di Ameria Radio dedicata a Wolfgang Amadeus Mozart. Ascolteremo il divertimento in merda maggiore, la piccola serenata notturna e il primo movimento del concerto per flauto ed arpa. A voi tutti un buon ascolto e una buonanotte con i Notturni di Ameria Radio. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Grazie a tutti. 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 a tutti.